Da Bacheria mandiamo i saluti ai cari bacheresi all'estero Ci incominciamo con il signor Signor Cangelosi Via vai Cangelosi Girolamo E poi chi? E chi c'è di assoluto? A voi A tuo cucino Piero A mio cucino Piero Tanti auguri e salute per il tuo cucino Cangelosi Girolamo Che c'è? E' Agostino E' Agostino Tuo fratello E' tutti i tuoi nipoti Perché non viene qua un'altra volta che ti voglio vedere Ecco, oggi salute più Salute per tutti A più presto A Piero Cangelosi E famiglia E tua nipote Pietro Flamia è in canata pure, giusto? Che c'è? 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 c'è ne ho uno su, in bancheria c'è ne ho uno su e basta vi voglio bene a tutti, vi saluto, e un signore vi posso aiutare, e se volete piccoli vi mando